Siamo notati Gesù e Maria, le letture che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, ci mettono dinanzi due temi speculari, quello della persecuzione e quello invece dei momenti in cui il Signore si accosta, si avvicina per farci grazie. È proprio della sapienza saper riconoscere nella nostra esistenza i tempi, richiama Gesù e Maria Maggio, i segni dei tempi, nel libro del Coelho si legge sinteticamente nei primi capitoli. Quindi c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per parlare, un tempo per stacere, un tempo per soffrire e un tempo per potere. La prima lettura, oggi come dice l'Ecola di Mancabecci, ricordo un tempo drammatico nella storia di Israele, che fu appunto durante la dominazione ellenistica, che cominciò con i grandi condizioni di tutti i tempi, che è Alessandro Magno, morto da 323 a.C., che c'erano i suoi successori e ebbero come programma di vita, diciamo così, non soltanto l'associentamento politico dei popoli. Israele calde ebbe il periodo di dominazione ellenistica, con il quale uscesse, in certi aspetti, ancora più rigido dall'ordinazione romana. Ma questo antiello che ti fanno essere messo in testa di sradicare completamente gli usi e costruire i religiosi. La differenza dei romani, sapete che i romani, comunque andavano, non importava niente della religione. Si vede anche nell'universo di Gesù, dove c'è affari vostri, la vostra religione strana, loro tolveravano, non importava niente di tutti i religiosi. Basta che tu venivi dalla legge di Roma, rispettavi il proprio natore, pagavi le tasse e ti comportavi i brei. Invece questi no, inserano l'intenzione di completamente sradicare la religione e paganizzare i brei e tutte le rivoluzioni. Questo sarebbe stato un dramma. Alcuni, come dire, cedettero a queste prevaricazioni, altri no. E fu un tempo doloroso, di grandissima persecuzione per Israele. Sentiremo negli prossimi giorni anche degli eventi e delle scene molto drammatiche, no. Il prevaricazione fu scatenata unita veramente grande. Perché c'è uno sterminio, insomma, massacro di coloro che non accettavano di assoghiutarsi a questo problema. Quindi, questo è il tempo della prova, della persecuzione, che a volte, a volte, abbastanza spesso, per la verità, cade su quello che cercano di servire il Signore. Nella vita della Chiesa sono stati molti i momenti in cui il vento della persecuzione si è abbattuto e tuttora adesso in molti luoghi del mondo, se potete vedere, i nostri fratelli cristiani sono stati seguitati. Il Vangelo ci getta luce su un'altra dimensione, variamenti importanti e frequenti in una vita di fede. Ci sono dei momenti in cui Gesù passa, come abbiamo detto, il Vangelo. Se intendo passare un Vangelo, non abbassa Gesù il Nazarete. Quindi Gesù stava camminando, cioè, con la vita di Gesù, gli anni che è stato qui, Gesù non stava mai fermo. Se vuoi, in continuazione, è un'immagine simbolica, perché ci sono dei momenti nella nostra esistenza che è bene che noi impariamo a riconoscere, in cui Gesù, come si è avvicinato in maniera particolare, è pronto a darci una serie di grazie. Lui lo fa, però vuole in un certo modo essere trattenuto, intercettato, cioè vuole che tu riconosci questo suo passaggio e lo chiami, in qualche modo ne approfitti, gli dai tempi, gli dai spazi, gli dai moto. Se non passa oltre, il tuo ragazzo non ce l'ha avuto. Questo cieco comincia a militare, vedete, dice anche il grinta quando uno ascolta, pura fine si ferma e guarisce, no? Quindi è un modo per dirci che alle offerte di grazie che Gesù ci dà, dobbiamo rispondere, può rispondere bene, perché è una cosa grande che Gesù venga a visitare il suo popolo. Adesso dalla popolo comincia il tempo di un vento, in questi temi, la liturgia dell'anchiesi, si farà molto riflettere, però è una visita che, quando uno bussa una porta di canza, chiede un'accoglienza, per esempio gli apri, che gli prepari un ambiente decente, per cui possa liberamente darti tutto il mondo che ha da darti. Perché se accogliamo e ci facciamo, tu è contento di poterci fare del bene, ma che il bene lo riceviamo noi, perché diciamo soltanto noi è condizione che lo sappiamo riconoscere in vocale. Quindi c'è il tempo della prova e c'è il tempo della grazia. Vediamo a Maria Santissima che ci doni questa luce, questo discernimento, per sapere discernere appunto i tempi, i loro segni, e per poterci adeguare a comportamenti che i tempi richiedono, il tempo della persecuzione, richiedono l'avventura della cortezza, del coraggio, il tempo della visita del Signore, richiedono l'avventura della fede, e della costanza della prezia di finanza, e non bussare la volta del Signore, perché di fermarsi, di riempire la nostra vita delle sue benedizioni. Aiuti la Madonna ad avere questa luce e a comportarci sempre in maniera adeguata ai momenti che Dio ci vuole, innanzi e ci fa vivere. Siamo lotati in Gesù. Sempre siamo lotati. Grazie. 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 Grazie.